Buonasera a tutti, iniziamo la presentazione della 35esima edizione del meeting di Rimini. Saluto innanzitutto le eccellenze reverendissime, i signori ambasciatori, i signori membri del governo, i parlamentari tutti e tutti gli amici del meeting. Oggi, come ho appena detto, presentiamo appunto il programma della 35esima edizione del meeting che quest'anno richiama la sfida di Papa Francesco ad andare verso le periferie del mondo. Il titolo del meeting è infatti Verso le periferie del mondo e dell'esistenza, il destino non ha lasciato solo l'uomo. Il meeting quest'anno sarà appunto a Rimini dal 24 al 30 di agosto. Presento subito i relatori che presenteranno l'edizione. Siamo molto grati della presenza del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, di sua eccellenza Monsignor Maria Tomasi, osservatore permanente della Santa Sede per le Nazioni Unite a Ginevra e del professor Giorgio Buccellati, professore merito di storia dell'archeologia del Vicino Oriente Antico all'Università della California. Oggi hanno accettato il nostro invito ad essere qui, ma saranno anche degli importanti protagonisti durante la settimana del meeting. Ora, prima di dare la parola a Giorgio Vittadini, che presenterà appunto quelli che sono i principali appuntamenti della settimana del meeting, do la parola a Giancarlo Cremonesi, presidente della Camera di Commercio di Roma, per un saluto iniziale ringraziandolo di averci ospitato qui oggi in questa bellissima sala. Buonasera, grazie a tutti, grazie a voi di essere venuti a presentare il meeting quest'anno in questa sala. Noi con l'amico Vittadini abbiamo una tradizione di rapporti costanti, spesso abbiamo contribuito ospitandoli all'osservatorio sul non-profit e alcune altre manifestazioni importanti che segue. Credo che il meeting sia ormai nell'immaginario collettivo un momento da non perdere, un momento molto importante per la vita sociale, economica e culturale del nostro paese, è l'occasione di far incontrare la politica con l'imprenditoria e con la società civile. Credo che chi è stato al meeting, io ho avuto questo onore di esserci varie volte e di avere anche, quando ero presidente da CEA, aiutato la realizzazione del meeting e come camera di commercio, come sistema camerale siamo sempre vicini al meeting di Rimini. Penso che anche quest'anno il presidente Dardanello sarà vostro ospite, quindi penso che la presentazione di quest'anno fatta in questa sala abbia un significato che va al di là di essere un atto di cortesia verso un'importante iniziativa, una fondamentale iniziativa della cultura, dell'economia e della politica italiana, ma è anche un momento per far capire che il sistema camerale, al di là delle necessarie occasioni e voglia di rinnovarsi, che ha anche lo stesso sistema, quindi prendiamo ben volentieri lo spunto dal governo per intraprendere quest'azione di rinnovamento, però è uno strumento indispensabile per star vicino all'impresa, per star vicino all'economia, per star vicino al progresso che non può essere solo economico, ma deve essere anche civile, ma deve essere anche morale del nostro Paese e quindi vi auguro naturalmente il maggior successo possibile. So che ne avete non solo la giusta capacità e la giusta professionalità, ma che siete veramente un punto di riferimento per tutti noi che facciamo impresa. Grazie e buon lavoro. Grazie Giancarlo Cremonesi, grazie davvero dell'ospitalità. Adesso passo velocemente la parola a Giorgio Vittadini. Per capire la preoccupazione e il filo rosso del meeting di quest'anno pensiamo alla cronaca. I tre ragazzi israeliani uccisi, quindi la paura di venti di guerra in Palestina, ma anche le nuove 60 ragazze nigeriane rapite. Un mese fa le 300 ragazze nigeriane erano anche sulla maglietta della moglie del Presidente degli Stati Uniti. Adesso erano in quattordicesima pagina di un quotidiano nazionale e gli altri hanno ignorato la notizia semplicemente perché era già capitata, capita tutti i giorni. E non parliamo di quello che sta succedendo, dell'uccisione anche tra musulmani in Iraq. Allora, un meeting dell'amicizia tra i popoli per rispondere alle varie crisi evidentemente lo fa in modo originale. Mette al centro queste cose di cui, diciamo la verità, ultimamente non gliene frega niente nessuno, tolto quando la settimana di notorietà mondiale. Mette al tema questo, per dire come con un'espressione del Cardinal Toran, per far riflettere una cosa in positivo, che il problema non è parlare del cuore del potere, ma come ha detto il Cardinal Toran, del potere del cuore. E lo vedete subito che dall'incontro inaugurale, dove il protagonista sarà Pier Battista Pizzaballa, che chi non lo sapesse, è il custode di Terra Santa che ha organizzato, che ha aiutato il viaggio del Papa in Palestina e poi ha aiutato a organizzare la preghiera in Vaticano tra il Papa Abumazen e Perez. Guardate com'è attuale oggi. Perché mettiamo al cuore questo, che potrebbe sembrare meno importante di altre cose mediatiche? Perché il cuore dell'uomo è il tema cruciale del cambiamento della storia. Una periferia esistenziale, perché è molto più importante il cuore del potere. Ma noi capiamo dal gesto del Papa che per uscire da cose che poi diventano per anni cruciali, non possiamo pensare al cuore del potere che organizza guerre ventennali, uccisioni, violenze e poi si rimostra totalmente impotente quello che sta avvenendo in questi giorni. Per dirla come lo scrittore Vassili Grossman, uno scrittore di origine ebrea, se non accade qualcosa nella persona vince il passato. Le diplomazie internazionali, le politiche, i grandi cambiamenti non servono assolutamente a nulla. Mentre questi fatti sono i fatti cruciali. Per dirla come, per non dire che stiamo parlando di utopia, pensate alla rinascita dell'Europa che abbiamo messo a tema l'anno scorso. Pensate che è nata da questa unità ideale. Pensate alla pace in Nord-Irlanda. Pensate alla transizione pacifica nell'est Europa dopo la caduta del Murun, Avele e altri. Pensate alla ripresa del dialogo in Sudafrica dopo la detenzione di Mandela. Ne parlava Borghesi, mi sembra, nel meeting dell'anno scorso. Noi mettiamo a tema questo. Perché se non lo mettiamo a tema noi non lo mette nessuno. E lo mettiamo a tema del meeting. Come il dialogo unica via per la pace. Questo è il punto iniziale. E questo sarà il filo rosso del meeting. I personaggi meno noti, ma per noi cruciali. L'ultimo incontro del meeting infatti riprenderà il tema dell'anno scorso dell'appello sulla persecuzione dei cristiani col vescovo nigeriano Kaigama e Polbatti, pakistano, per mostrare come in questo momento non metterlo a tema, prevedere cose più importanti del cortile, vuol dire ignorare i fatti di grande cambiamento e i fatti di grande distruzione che stanno avvenendo. Senza neanche più poter pensare come si fa. Perché mi ha agghiacciato la dichiarazione di Hillary Clinton che ha detto che il problema dell'Iraq in questo momento è un problema interno all'Iraq. Bene. Dopo aver fatto migliaia di morti e distrutto un'area che una dei principali esponenti della politica americana dica qualcosa e che l'Europa sia sostanzialmente assente fa riflettere. E allora andiamo avanti a mostrare questo filo rosso. Per esempio nell'incontro sull'immigrazione che vedrà insieme a Tomasi, Nunzio Vaticano a Ginevra, l'ammiraglio De Giorgi, anche qui centinaia di morti ogni giorno. Che la vita valga diversamente? Che un morto valga perché peso o perché no? E allora qui ancora altri protagonisti che per noi sono protagonisti che ci mostrano che il nostro modo di rispondere a questo non è la deprecazione o la ripresa della guerra ma l'idea della libertà che può rinascere all'interno di un cuore. L'idea del fatto che è l'educazione dell'io. E allora sentiremo ora i ragazzi musulmani che ci ricorderanno come quello che è rimasto dopo la rivoluzione di piazza Tahir in Egitto è sotto i cambiamenti di regimi un'unità tra giovani musulmani e cristiani copti che ha portato dei martiri ignorati. Ci racconteranno di quanti martiri ci sono stati per salvare gente che ufficialmente è un nemico politico. Sentiremo l'incontro principale del meeting sarà di Alessander Filonenko, docente di filosofia all'Università di Kharkov e quindi Ucraino che metterà a tema la possibilità di una convivenza pacifica in un'area che adesso è invece dal punto di vista delle diplomazie e della politica un punto di spartizione. E allora sentiremo in questo dialogo ecumenico la testimonianza di Pantaleimo, vicario del patriarca di tutta la Russia, il ritorno al meeting di Albucawa, monaco buddista amico di Don Giussani, la testimonianza di Joseph Weiler costituzionalista ebreo americano che adesso è anche il presidente dell'istituto universitario europeo, tanti altri di questi incontri in cui il meeting dell'amicizia dei popoli oggi è diventato un meeting di amici di popoli diversi che saranno presenti lì e noi vorremmo, non so se ci riusciremo, non ci interessa neanche che poi diventi incontro di talk show politici che secondo me sono il punto più basso della politica e della società, ma ci interessa che la gente che è lì e tanta scopra come ci sono protagonisti nuovi, che 35 anni di meeting mostrano come testimonianza come c'è questo filo rosso, che poi vi interenterà anche il filo rosso culturale di fondo perché avremo incontri che dibatteranno di questo anche in termini di categorie, oltre a quello centrale che ho nominato prima, per esempio quello in cui Luciano Violante e Javert Praders, rettore a Madrid dell'università pontificia di Madrid, mostreranno come la giustizia nasca da un'affezione all'uomo, alla gratuità, quindi vedete un meeting alternativo perché decide, al di là dei personaggi importantissimi che saranno presenti, di cui testimonieranno gli incontri dopo, che noi vogliamo ritornare, se mai ci siamo spostati all'intuizione originaria del meeting, perché questo è quello che cambia la storia secondo un'affermazione di Don Giussani del 1968, riportata nel libro, ciò che cambia il cuore dell'uomo, cioè di fronte a uno che gli diceva Don Giussani partecipi al cambiamento della storia e lui gli rispose al volo, guarda che quello che cambia la storia è ciò che cambia il cuore dell'uomo. Noi vogliamo mettere a tema questo, vogliamo mettere a tema quello che ha detto Giulian Carron, successore di Don Giussani alla Presidenza della Fraternità di Comunione e Liberazione, che ha riletto il tema della questione europea prima delle elezioni proprio in questa rinascita dell'io pieno di desiderio. Vorremmo giocarla in questo modo, vorremmo sfidare anche i media a vedere se gli interessa parlare di questi fatti positivi o non gli interessa fare il gossip. Noi a questo non ci è mai interessato, ma adesso ci interessa ancora meno, perché se no l'esito del gossip è il cinismo, l'esito del gossip è il nichilismo, l'esito del gossip è il disinteresse della gente, che di certe cose, soprattutto in momento di crisi, non è interessata. Ma qualcosa che sia una nuova unità dei popoli, che sia verificabile, sperimentabile, che sia amicizia, io penso che questa sia la cosa interessante. Penso che innanzitutto il meeting debba fare questo. ringraziare il professor Vittadini per questa puntuale e precisa presentazione del filo rosso del meeting. Ricordo anche che il meeting ha invitato al meeting appunto il presidente del consiglio Matteo Renzi e siamo in attesa di una sua risposta. Adesso invito il professor Buccellati a presentare quelli che saranno gli appuntamenti principali che lo vedranno protagonista. Oltre appunto alla grande mostra sugli scavi che lui insieme alla moglie dirige appunto in Siria, ci sarà un grande incontro sulla possibilità della pace appunto in quel paese e infine anche un altro incontro con il professor Kabahosa sulla seconda parte del titolo del meeting che è appunto il destino che non ha lasciato solo l'uomo. Grazie. Per sua natura l'archeologia è protesa verso il passato ma sempre di più sta diventando cosciente del presente e si protende verso il futuro. Sull'archeologo incombe così pressantemente la responsabilità di servire da interfaccia tra un passato remoto oggetto di studio e un futuro a cui quel passato deve pur servire. L'impegno si acuisce al massimo nel momento in cui il tessuto sociale nel quale si inserisce l'attività archeologica comincia a disgregarsi. Esasperata dalla guerra la tensione arriva a un punto di rettura totale. A chi parla allora all'archeologia vuol parlare. Vuol parlare a chi cerca una risposta proprio nel momento in cui la domanda si ripropone nel modo più lancinante. Chi siamo noi come gruppo sociale nel momento del disfacimento imminente? Da dove veniamo? Attivi sul campo in Siria ormai da cinquant'anni mia moglie Marilyn e io abbiamo trovato nel meeting il terreno più fertile che potessimo immaginare per proporre al gran pubblico una riflessione proprio su questi temi. È l'articolazione verticale del nostro essere collettivo che si erige a risposta. Un'articolazione che verrà presentata nel prossimo meeting attraverso quattro occasioni. La prima è una mostra dinamica e interattiva nel miglior stile del meeting. Proponiamo di vedere nella continuità dello sviluppo storico il ruolo che ha avuto la comunicazione nella formazione di modi sempre più complessi del vivere insieme. Partiamo dal lontanissimo periodo paleolitico quasi due milioni di anni fa, quando la comunicazione tra gli ominini di allora dipendeva ancora soltanto dalla percezione per quanto complessa. Questa fase prelinguistica e prelogica ci aiuta a mettere in luce quella trasformazione epocale che ebbe luogo con l'introduzione del linguaggio prima e poi della sua estensione extrasomatica, la scrittura. È la società urbana che illustriamo nella mostra, con un esempio particolare, quello dei nostri scavi dell'antica città di Urkesh in Siria. Vogliamo mostrare come la struttura politica e sociale assurga a forme complesse che hanno condizionato da quel lontano allora tutto lo sviluppo delle concezioni e delle attuazioni concrete dei sistemi statali susseguenti fino ai nostri. Sfociamo così alla Siria di oggi. In maniera complementare alla grande mostra attualmente aperta a Palazzo Venezia, che mette a confronto lo splendore e il dramma, la mostra di Rimini vuol mettere in risalto la creatività e davvero il coraggio nel momento della crisi. L'archeologia diventa presenza morale nel modo più diretto e introduce un elemento di speranza, proprio perché non abdica al suo statuto essenziale di trampolino dal passato verso il futuro. La mostra di Rimini, seguendo lo stile classico delle mostre del meeting, si propone come una presentazione scenografica dove il concetto centrale viene perseguito con il forte intento di stimolare una risposta partecipativa e dinamica da parte dei visitatori. La seconda occasione è un grande incontro plenario in cui il direttore generale delle antichità e dei musei della Siria ci parlerà in prima persona dell'enorme sforzo con cui nelle trincee del dramma siriano lui e i suoi collaboratori a tutti i livelli si sono prodigati e si stanno prodigando per difendere nel concreto l'eredità culturale del loro paese. Degli enormi manifesti hanno tappezzato per mesi le città siriane, ricordando a tutti con immagini efficacissime che questa eredità culturale è un bene di tutti da salvaguardare insieme. I guardiani di anche i più modesti siti archeologici hanno ora accesso immediato al direttore generale di Damasco che ne ascolta personalmente le necessità intervenendo anche direttamente. Modalità nuove sono state messe in atto per rendere possibile ai funzionari in aree a rischio di lavorare al di fuori dei musei dove possono trovarsi nel mirino dei malintenzionati letteralmente a rischio della loro vita. Ci viene così proposto dalla Siria un modello. Il modello del modo in cui un quadro professionale di archeologi si può mobilitare per fraffronte alla spezzettatura del loro patrimonio, al di là di ogni retorica e con la capacità effettiva di rivolgersi a siriani di diverse convinzioni politiche. È eroico mantenere vive alla passione e alla dedizione dopo tre anni dissaguanti. Ma passione e dedizione sono intensamente vive nei nostri colleghi siriani, tanto più quanto meno sembrano essere i vantaggi personali per chi vi ci si trova così drammaticamente coinvolto. È un esempio per tutti noi di come si può e si deve gestire il patrimonio in un periodo di crisi. Un esempio che a Rimini vogliamo sottolineare in modo ancora più concreto. A seguito del grande incontro plenario ci sarà infatti un incontro specializzato a cui parteciperanno i sovrintendenti regionali di tre delle province siriane, inclusa quella di Aleppo, che è la più a rischio, come ben sappiamo da tutto quello che leggiamo e sentiamo dai media. È la prima volta dall'inizio della guerra che essi vengono fra di noi. Sono i funzionari con cui gli archeologi di campo si confrontano regolarmente durante ogni campagna di scavo e sarà questa la prima occasione in tre anni per rinnovare di persona a Rimini un tale incontro. Ci sono poi due altre occasioni che mettono l'accento sull'archeologia e sulla Siria. Un incontro tra cinque studiosi vuole evidenziare il tema centrale della mostra, come la comunità umana si sia sviluppata dalle piccole comunità preistoriche fino alla civiltà, attraverso una serie di conquiste intellettuali, artistiche, organizzative e così via, che sono i pilastri fondanti del nostro essere civile per l'appunto di questo nostro oggi. Marilyn e io siamo appena tornati cinque giorni fa dall'Iraq. Eravamo a Erbil, nel Kurdistan, per dare un seminario sulla preservazione dei siti archeologici ai colleghi iracheni, alcuni dei quali venivano da Baghdad. A circa sessanta chilometri al sud di noi si stava assestando il nuovo confine di quello che proprio l'altro ieri si è autodefinito come il nuovo califato islamico. Stiamo vivendo un grande paradosso. Mentre ci preoccupiamo come studiosi di salvaguardare il retaggio della civiltà nel suo insieme storico, ci scontriamo con un'ideologia che proclama l'esatto opposto dell'ideale espresso dal nome del meeting di Rimini dedicato, come ci ricordava Giorgio Vittadini, all'amicizia tra i popoli. Ma proprio come studiosi il nostro incontro di Rimini vuole mutuare al gran pubblico quello che potremmo definire il coraggio della cultura, cioè la volontà di riaffermare il valore di una riflessione universale sulla storia anche nei momenti di crisi. E a questo ci porta un ultimo incontro che pure si basa, anche se in maniera un po' più indiretta, su questa più vasta riflessione storica. Il tema del meeting di quest'anno pone l'accento sul destino. E di questo parleremo in un incontro dialogico che ci porta dal profondo del tempo, come è inteso nel contesto della mostra in senso cronologico, quindi dal profondo del tempo antico verso una profondità diversa, quello dei valori ultimi. Cosa ci dice l'archeologia in merito al concetto di destino? Come lo vedevano i siro-mesopotamici? Come gli autori biblici? Come i pensatori greci? Sono le domande fondamentali che, viste sullo sfondo della lunghissima traiettoria della preistoria e storia umana, acquistano una valenza che sembra travalicare il tempo. Il tempo lo abbiamo drammaticamente scandito nella mostra, illuminando proprio i momenti salienti di quella traiettoria. E ci poniamo ora di fronte a quella dimensione del nostro essere che è condizionato dal passato, vuole conoscerlo per meglio costruire il futuro. E questo, possiamo concludere, il nostro tema particolare che il Meeting vuole proporre quest'anno, la maieutica, diciamo, della archeologia. La capacità di capirci verticalmente nel nostro lunghissimo di venire come comunità civile per portare alla luce, maieuticamente, per l'appunto, i valori che possono definire il nostro essere civile di oggi e di domani. Grazie. Grazie davvero, Professor Buccellati. Un altro tema che è sempre più drammatico, basta guardare le prime pagine dei giornali di stamattina e appunto sempre più attuale, è sicuramente il tema dell'immigrazione. Una periferia che il Meeting quest'anno vuole affrontare e affronterà in tutta la sua complessità. Sua eccellenza, Tomasi parteciperà al Meeting in un importante incontro insieme a Giuseppe De Giorgi, l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di Stato Maggiore della Marina Militare, insieme all'Arcivescovo di Monreale e Sua eccellenza Michele Pennisi e Carla Trommino, Presidente dell'Associazione Accogliere il Rete di Lampedusa. In questo incontro affronteranno questo tema. Io per introdurre questo tema oggi lascio la parola a Monsignor Tomasi. Grazie. Grazie, buonasera. Una persona su sette nel mondo di oggi è un migrante. Ci sono 240 milioni di migranti internazionali, 700 milioni di migranti interni. E le ultime informazioni che ci ha dato l'Alto Commissario per i Rifugiati è che abbiamo in questo momento più 51 milioni di rifugiati o gente forzatamente espulsa dalle loro case e dal loro ambiente. Una cifra che non è stata mai raggiunta se non alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli emigrati in questa maniera diventano l'altro. Se noi pensiamo alla reazione delle ultime elezioni al Parlamento europeo, abbiamo visto che attorno alla questione immigrato diverso, migrato che disturba, si sono coagulati alcuni partiti che hanno fatto della campagna contro l'immigrazione la loro bandiera. L'emigrato come l'altro può essere percepito, visto, ricevuto come un dono oppure come una minaccia. Dipende da come l'affrontiamo questa questione, avremo delle conseguenze molto diverse, sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista sociale della possibilità di vivere assieme nelle diversità. L'altro come minaccia crea muri e abbiamo visto il tentativo tra Messico e Stati Uniti, tra Grecia e Turchia, di creare muri, di erigere barriere. E nella storia si è visto, visto quando imperatori romani o cinesi hanno voluto creare grandi muri per tenere fuori l'altro, alla fine non sono riusciti. L'altro è arrivato e ha cambiato le società in cui si è insediato. Quindi, se noi guardiamo all'altro come dono, apriamo la strada a una possibilità nuova, ad accettare l'evoluzione delle identità acquisite storicamente, che però non sono fossilizzate, e che continuano a cambiare e che noi, assieme all'altro che arriva, possiamo creare in maniera costruttiva e in maniera nuova, originale, usando i doni, i talenti, le tradizioni, le esperienze che l'altro porta per far avanzare il modo di vivere umano più sfaccettato, più ricco e più efficace, alla fine, anche economicamente. Quindi, la presentazione delle questioni di emigrazione non sono solo una riflessione di carattere economico. L'emigrazione non è solo una funzione economica delle nostre società occidentali o delle società in via di sviluppo nel sud del mondo, perché anche lì l'emigrazione sta giocando lo stesso ruolo, con la stessa importanza. L'emigrazione è un movimento di gente, e la gente porta con sé religioni diverse, idee nuove, uno stile di vivere e delle tradizioni culturali che sono, alle volte, in contrasto con quelle della gente che viene incontrata. Da questo primo scontro, però, sappiamo, e tutta l'evidenza storica e statistica lo dimostra, che, a lungo andare, le emigrazioni sono un bene per il Paese che riceve gli immigrati, per gli immigrati stessi e per i Paesi di origine. Quindi, la questione di queste grandi masse di gente in movimento, in giro per il mondo, in ogni continente, interpellano tutti noi a leggere questo fenomeno non in maniera antagonistica, vedendo l'altro non come una minaccia, ma piuttosto come un partner per la costruzione di una nuova società. Certo, questo pone un problema nuovo. Come viviamo assieme nel pluralismo creato da questi cambi demografici? Anche l'Italia, che è stata considerata sempre un Paese molto uniforme da un punto di vista religioso, adesso deve confrontarsi con presenze significative di comunità di altre fedi religiose. Nel contesto democratico, come viviamo ed esprimiamo questo nuovo modo di essere? Quindi il pluralismo, che viene rafforzato e creato dalle emigrazioni, ci forza ad essere creativi nel trovare delle soluzioni nuove. La comunità internazionale, vengo da Ginevra, dove le Nazioni Unite e le agenzie operative delle Nazioni Unite cercano di confrontarsi con questo enorme fenomeno della mobilità umana. C'è una doppia maniera di guardare alla situazione, o di stare dentro i meccanismi strettamente delle Nazioni Unite, dove gli Stati, attraverso il processo democratico di votazioni, di accordi, cercano di trovare una governance dell'emigrazione, oppure si segue un'altra tendenza, di stare fuori dal sistema delle Nazioni Unite, e di cercare altre soluzioni, in modo da non essere costretti a camminare secondo i trattati già fatti, che domandano di guardare a questo fenomeno rispettando diritti umani ed equilibrando quindi il modo di accettare queste persone senza che diventino scapegoats, senza che diventino un'occasione di sfruttamento. Vorrei concludere dicendo che l'altro, la periferia delle nostre grandi città, delle nostre comunità anche rurali, dove arrivano questi operai stranieri a raccogliere i pomodori o altre situazioni simili, non sono periferie geografiche o fisiche. La vera periferia è questa massa enorme di gente che cerca una soluzione alla sua vita, a un lavoro decente, e che trova resistenza, e che trova alle volte incomprensione. questa periferia umana dove l'altro non è ancora conosciuto, dove il suo volto è ancora nascosto, è la sfida che ci pongono le situazioni contemporanee, la dinamica contemporanea della globalizzazione e alla quale noi dobbiamo rispondere in maniera più umana e direi, dal mio punto di vista, in una maniera più cristiana, dove l'altro diventa non tanto la minaccia, ma diventa un fratello. Grazie davvero, eccellenza, e credo che possiamo passare all'altra periferia che come Papa Francesco ama definirla, una periferia sicuramente esistenziale, che è quella dell'educazione, della sfida educativa. Abbiamo il Ministro Stefania Giannini che ringraziamo molto di essere qui oggi e le chiediamo come lei sente questa sfida. Molte grazie per l'invito, per l'invito ad essere qui oggi con voi alla presentazione dei contenuti e del programma del meeting 2014. Molte grazie soprattutto per l'invito a partecipare al meeting. Ho trovato veramente molto bello, affascinante questo tema e l'ho trovato molto bello e affascinante. Mi permetto rispondendo poi subito al quesito specifico che lei mi ha posto e di questo cercherò di parlare e di condividere in quell'occasione con il pubblico presente soprattutto per il ruolo che rivesto e soprattutto per chi in un paese avanzato che appartiene al centro, ad una delle parti centrali del mondo, l'Occidente, si trova oggi a dover pensare e ripensare, cioè il modello educativo e la sfida educativa. Ho trovato bello perché centro e periferia è un concetto reciproco di origine geografica ma che poi è necessario, l'avete già fatto, gli illustri relatori hanno già accennato a declinazioni sociali, culturali, antropologiche di questo concetto. È un concetto che presuppone distanza e presuppone reciprocità. Periferia è ciò che identifichiamo con la privazione, con l'assenza di alcuni elementi e centro è ciò che identifichiamo sia mettendo insieme diverse parti del mondo sia mettendo insieme diverse condizioni della possibile esistenza in uno stesso punto del mondo è ciò che identifichiamo con la presenza, con la presenza di mezzi, di strumenti, di ricchezza materiale, di accessibilità a questa ricchezza, lasciatemi dire anche di inclusione, perché quando si vive in una condizione centrale che sia una grande città ricca del mondo occidentale o che sia un'appartenenza ad una classe sociale che dà strumenti educativi e quindi strumenti di possibile miglioramento di condizione anche interiore ma non solo della persona umana si è sicuramente più dotati di mezzi e la storia come ci ha ricordato il professor Buccellati e in altra verste il monsignor Tommasi la storia ci insegna che il percorso è quasi sempre stato monodirezionale cioè ci si sposta dalle periferie e si va verso il centro le migrazioni sono sostanzialmente questo sono spostamento di individui singoli o di masse che cercano la centralità perché essa è ricchezza è presenza ed è anche possibilità di non essere esclusi dalla vita ma essere inclusi ecco io credo che in questa visione storica e dinamica si debba considerare che l'educazione intesa nel senso anglosassone cioè istruzione della persona formazione della sua conoscenza miglioramento del suo percorso formativo per arrivare a produrre dalla conoscenza una coscienza uno spirito critico che rende le persone adulte i giovani adulti cittadini partecipi è lo strumento essenziale per far sì che da una periferia esistenziale che sia un paese non sviluppato versus un paese avanzato o che sia una periferia urbana versus il centro della città e quindi dell'esistenza ecco è l'elemento essenziale e allora noi dobbiamo ripensare quali strumenti quali metodi dovremo adottare per far sì che questo occidente permettetemi di dire forse un po' in declino da certi punti di vista che forse ha un po' dimenticato la centralità di questi strumenti educativi possa riappropriarsene e nel nostro paese possiamo ritornare i protagonisti di questa sfida educativa io dico poche cose che mi sembrano però importanti per poter rilanciare un modello educativo un modello educativo che abbia come ci ricordava Sant'Agostino nel De Magistro un obiettivo grande un obiettivo alto che è quello di ricreare una generazione di maestri che parlino ai propri allievi e quindi guardate la scuola dell'oggi la scuola del domani nell'era della digitalizzazione non sarà soltanto una scuola infrastrutturalmente preparata quindi che abbia strumenti che consentano ai giovani che si si muovono in una struttura dell'informazione libera con accesso direi continuo a dati ma che sia una scuola che attraverso insegnanti formati insegnanti aggiornati permettetemi di dire insegnanti restituiti alla loro dignità sociale alla centralità della funzione che svolgono nella società possa restituire a questi allievi un messaggio educativo forte io vedo alcuni punti nell'agenda politica e culturale della scuola italiana ma mi permetto di dire forse anche con un più ampio respiro europeo che andranno rimessi in evidenza lo spessore della conoscenza umanistica che in qualche caso è stata se non trascurata è stata comunque vogliamo dirlo annaquata in un in un percorso di istruzione che non sempre mette gli studenti che non hanno nelle famiglie di origine grandi biblioteche e che non hanno quell'accesso proprio perché appartengono a una condizione esistenziale periferica diretto alla conoscenza e non all'informazione soltanto nella condizione di poter diventare uomini e donne maturi e dotati di un sapere critico in grado di renderli partecipi alla vita sociale e questo significa poter riconcepire anche il ruolo delle periferie in maniera permettetemi di dire più originale forse più moderna forse più legata a ciò che le periferie adesso nel mondo occidentale stanno diventando io recupero una bella espressione di Renzo Piano che ho condiviso con lui nel riflettere poi alcuni spunti che non riguardano solo l'urbanistica l'edilizia scolastica ma che riguardano anche il modello educativo del nostro paese le periferie sono sempre più luogo di assenza e di desiderio sono sempre più quella parte in cui i giovani devono poter trovare uno spazio di riscatto individuale sociale ma soprattutto lasciatemi dire formativo ed interiore e allora noi dobbiamo lavorare lì dobbiamo concepire scuole aperte dobbiamo concepire scuole che siano in grado di svolgere una funzione non solo nell'ora di lezione frontale dentro la classe ma che siano in grado di dare appunto un percorso questa volta non solo monodirezionale ma bidirezionale che quindi mettano il centro della nostra società quello ricco quello dotato di mezzi quello già proiettato almeno formalmente verso il futuro e le nostre periferie in grado di comunicare e di scambiarsi queste esperienze per un miglioramento complessivo della società del domani e un ultimo tema che mi preme sottolineare è l'altra declinazione possibile del rapporto tra centro e periferie quello a cui faceva allusione Monsignor Tommasi cioè l'idea che c'è ancora un mondo che guarda all'Europa e guarda in particolare all'Italia con una grande domanda con una grande aspettativa non solo di miglioramento generale delle proprie condizioni ma lasciatemi dire di miglioramento della propria possibile educazione della propria possibile risalita come persone come collettività nella scala della vita io credo che questa sfida educativa quella che non è solo interna alla nostra società ma che è il nostro debito nei confronti degli altri paesi per le comunità migranti che già sono stabilite in Italia e per tutto quel contatto che ci mette al centro del Mediterraneo in diretta e costante continuità con la sponda sud e con paesi che hanno ancora delle complessità molto forti questa è l'altra dimensione della sfida educativa che dobbiamo assolutamente non trascurare e non eludere e qui ecco che il lavoro che possono fare i nostri insegnanti con i ragazzi immigrati è un lavoro importante fondamentale che renda la nostra scuola per sintetizzare il modello educativo a cui penso e a cui pensiamo aperta educativa e non solo istruttiva e inclusiva queste sono le tre caratteristiche che insieme alle grandi modifiche di edilizia e di infrastrutture noi dobbiamo cercare di ottenere non è una sfida facile ma credo che sia possibile grazie grazie ministro adesso prima dell'ultimo appunto contributo del nostro presidente il presidente della compagnia delle opere Bernard Scholz ci presenterà quelli che sono i principali appuntamenti che al meeting riguarderanno l'impresa l'economia e lo sviluppo buonasera noi affronteremo come in tutti i meeting anche quest'anno il tema della crescita del lavoro del welfare i temi sociali ma è sottinteso a questo un'idea di sviluppo uno sviluppo che comincia sempre dall'educazione come il ministro appena ricordato dalla formazione dei giovani che è un tema cruciale anche in diversi appuntamenti una formazione universitaria adeguata anche di questo parleremo perché se noi pensiamo che una crescita sia possibile in senso sviluppo non ci arriveremo mai perché è una crescita sostenibile che non è fine a se stesso ma al sostegno dell'occupazione al sostegno del welfare al sostegno di un sistema di formazione educativo valido ha bisogno di persone che hanno la capacità di valutare bene le necessità le condizioni e anche le conseguenze del loro operare quindi parleremo di questi temi con diversi esponenti anche del governo oltre al ministro Stefania Giannini sarà presente Federica Guidi ministro per lo sviluppo economico Beatrice Lorenzin ministro per la sanità Gianluca Galetti per l'ambiente Maurizio Martina per l'agricoltura e Giuliano Poletti lavoro e welfare vogliamo parlare delle riforme della necessità in un dialogo aperto dove la società civile e le istituzioni si incontrano infatti un tema importante che affronteremo in questo meeting sarà il ruolo della società civile lo faremo in un dialogo con Giorgio Squinzi presidente Confindustria perché se pensiamo che le riforme o le riforme possono arrivare a uno scopo di cambiamento vero senza che la società civile si assuma la sua responsabilità ci iludiamo però la società civile è troppo fragmentata bisogna anche qua trovare nuovi sviluppi che riguardano la collaborazione dei corpi intermedi anche fra di loro e questo sarà un tema cruciale perché se andiamo avanti a pensare che sempre qualcun altro deve fare qualcosa per risolvere il problema saremo fermi per sempre e quindi si tratterà anche di definire bene quale assunzione di responsabilità compete ogni parte perché il potere del cuore riguarda anche noi qua tutti che è il potere di una persona che si assume la sua responsabilità proprio per la sensibilità che ha per il bene comune parleremo di un tema molto importante decisivo per il futuro del nostro paese che riguarda la competitività delle imprese lo faremo con Sergio Marchionne è stato al meeting quattro anni fa e vorremmo sapere da lui con quali criteri con quali prospettive avviati i cambiamenti di cui noi sappiamo e che si evolveranno anche nei prossimi anni per comprendere anche quale ruolo che le imprese italiane possono avere le grandi imprese nella competizione globale e quali sono le condizioni per affrontarlo un tema che affronteremo anche con Raffaele Bonani dal punto di vista dei sindacati saranno presenti imprenditori italiani di fama internazionale Oscar Farinetti Brunello Cucinelli Walter Scavolini il presidente Laferero l'ambasciatore Fulci e Francesco Bernardi di Illumia Saranno presenti anche le manager delle grandi aziende italiane dove sono stati anche importanti cambiamenti recentemente ci sarà presente l'amministratore delegato Starace dell'Enel l'amministratore delegato Malacar nella Snam l'amministratore delegato Moretti di Femmeccanica e poi delle grandi multinazionali che operano in Italia Andrea Zappia amministratore delegato di Sky Federico Golla amministratore delegato di Siemens Italia e Maximo Ibarra di Wind queste sono importanti presenze perché sempre di più è necessario comprendere la situazione economica di un paese dentro un contesto internazionale non siamo in isola qualunque azione noi facciamo in questo paese ha dei riflessi su altri paesi e viceversa e quindi dobbiamo andare fino in fondo di alcune problematiche perché è giusto che l'occupazione sia il tema principale e ne parleremo ma senza crescita l'occupazione non sarà consistente parleremo dello sviluppo anche delle città delle periferie di cui il ministro ha fatto cenno con Dario Nardella nuovo sindaco di Firenze e Giuliano Pisapia il sindaco di Milano per non rimanere solo teorici ma portando anche esempi di giovani che rischiano che intraprendono ci saranno tutti i giorni al meeting presentazione di start up dove diversi giovani presenteranno le loro iniziative che hanno preso anche sostenuti per la bravura che hanno da fondi nazionali e internazionali per coinvolgere i giovani in un spirito più intraprendente perché c'è un potenziale enorme in questo paese che dobbiamo sostenere e il meeting a questo vuole anche contribuire in modo che un giovane che venga al meeting respire un clima di fiducia di prospettiva di speranza e si sente anche sostenuto nella sua idealità questo è il contributo che vogliamo dare cosciente che per fare questo ognuno deve assumersi una responsabilità anche personale e anche la responsabilità di cambiare dove è necessario cambiare grazie a Bernard Scholz io passo rapidamente la parola al presidente del meeting Emilia Guarnieri come avete sentito sono stati delineati tanti scenari e tanti altri nel programma del meeting e ne sono contenuti io vorrei non sintetizzare gli interventi di sintetizzare un accento e poi darvi alcune notizie alcuni flash sugli spettacoli e le mostre del meeting perché sono totalmente interni a questa a questo piccola piccola sottolineatura che mi permetto di fare cioè da tutte queste da tutti questi flash dall'immigrazione alle sfide educative ai drammi indirettamente della Siria che comunque il professor Buccellati ci riproponeva dai temi che Bernard Scholl suggeriva da tutta la prima introduzione di Vittadini i grandi scenari internazionali quindi questioni interne questioni mega questioni internazionali emerge un quadro di cui uno potrebbe dire ma siamo arrivati veramente a un punto in cui non dico tutto perché faccio fatica a dirlo ma tanto va male cioè siamo arrivati a un punto in cui se uno guarda lo scenario internazionale non è che veda dei grandi orizzonti di pace abbiamo sistemato abbastanza 70% del mondo è sistemato adesso cerchiamo di sistemare l'ultimo 30% non è così la situazione interna della nostra Europa del nostro paese altrettanto non sto a esemplificare ma è analoga riguarda la crisi riguarda la condizione dei giovani riguarda il grande tema del dramma dell'immigrazione allora a me pare come che il miti in quest'anno voglia porre radicalmente una domanda quasi io la sento posta a me stessa proprio perché è radicale le domande radicali uno o se le fa per sé o non serve cioè se uno le fa solo agli altri vuol dire che non sono radicali cioè sono fatte così per retorica la domanda radicale io credo che sia questa a cui io credo anche che ognuno abbia la responsabilità di rispondere perché se non risponde è come se avesse già risposto la domanda è ma l'uomo l'uomo è una risorsa adeguata per affrontare tutto questo l'uomo è una risorsa adeguata per affrontare le questioni che oggi sono state poste ma le tante altre questioni che l'orizzonte che l'orizzonte internazionale ci mette davanti l'uomo è una risorsa adeguata per affrontare tutto questo il potere del cuore di cui Vittadini parlava all'inizio e che è stato anche ripreso negli interventi successivi il potere del cuore basta o stiamo così passando un pomeriggio magari passeremo anche una settimana al meeting a parlare di cose che in fondo non sono molto importanti perché le cose importanti le affrontiamo altrove ecco io credo che questa sia la questione radicale l'uomo è una risorsa adeguata per affrontare tutto questo e proprio muovendomi nella prospettiva umanistica che il ministro suggeriva mi permetto di dire da una parte che la storia millenaria dell'uomo anche la mostra che il professor Buccellati ci proponeva la storia millenaria dell'uomo ha una risposta a questa domanda sì l'uomo è una risorsa adeguata per affrontare tutto questo perché tutto quello che nel mondo è successo nel corso dei millenni è perché un uomo degli uomini hanno agito in un modo piuttosto che in un altro hanno giocato la loro libertà in un modo piuttosto che in un altro tutto è successo per questo quindi la storia millenaria dell'uomo risponde sì l'uomo è una risorsa adeguata per affrontare tutto questo e io credo che anche la storia del meeting piccolo piccolissima piccolissimo frammento nella storia millenaria naturalmente ma anche la storia del meeting risponde e il tema di quest'anno è proprio anche una risposta in questo senso la storia del meeting risponde sì non possiamo altro che continuare ad investire su questa risorsa che è il cuore dell'uomo e allora anche gli spettacoli le mostre questo è l'affondo su cui io vado anche gli spettacoli e le mostre non sono qualcosa di separato da questo modo di affrontare la realtà da questo modo di affrontare le grandi sfide di seguire ecco vorrei anche aggiungere questo di seguire i grandi maestri che ci accompagnano nell'affrontare queste grandi sfide e nel valorizzare fino in fondo che l'uomo è una risorsa adeguata penso alla grande provocazione rappresentata da questo pontificato da Papa Francesco che sarà fortemente è già presente nel titolo del meeting sarà presente in una grande ripresa dell'Evangelii Gaudium che verrà fatta dal professor Carichiri insieme al cardinale Bassetti sarà presente in un dialogo con padre Spadaro direi l'esperienza proprio a cui ecco direi l'esperienza a cui la testimonianza di Papa Francesco ci induce ci sollecita sarà sicuramente uno dei fattori che accompagneranno in queste sfide così come all'interno del meeting sarà presente questo desiderio continuo che noi abbiamo di incontro con tutti a questo si lega anche la presenza per la prima volta al meeting del prelato dell'Opus Dei Monsignore Cevaria ma dicevo che siano i convegni che siano le presenze le persone le testimonianze a supportare il tema è abbastanza scontato ma mostre e spettacoli mai come quest'anno saranno fin in fondo animati da una grande da una grande comune passione la passione di documentare la domanda di senso l'aspirazione alla libertà che gli uomini e i popoli da sempre hanno vissuto e hanno proprio affidato alla forma artistica affidato all'immagine affidato alla poesia la questione proprio del senso della vita perché il tema del senso della vita è un tema appunto non da poesia la questione del senso della vita che poi è un altro modo per dire ma insomma l'uomo basta o non basta la questione del senso della vita è una questione fondamentale non è per i poeti i poeti sono una grande testimonianza di una ricerca di senso della vita ma la realtà nella quale noi viviamo i suicidi dei giovani che cosa sono sono la documentazione di un senso della vita non adeguato non trovato la violenza a cui diamo giustamente mille ragioni di tipo psicologico criminologico sociologico ma in fondo che cosa c'è nella violenza di uno che commette violenza nei confronti della vita della persona di un altro un non senso della vita dell'altro quindi il tema del senso è un tema fortemente incidente il meeting di quest'anno apre più o meno con queste parole tu non ci crederai ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa ecco prendi quel sasso lì per esempio non so a cosa serve questo sasso io ma a qualcosa deve servire perché se questo sasso è inutile allora è inutile tutto anche le stelle per i meno giovani fra noi è noto questo è un celebre dialogo della strada di Federico Fellini il dialogo tra il matto e Gelsomina il matto appunto guardando un sasso dice se quel sasso lì non serve a niente allora niente serve è un grande inno alla è un grande inno proprio alla domanda di significato al senso della vita e quest'anno il meeting apre con con un grande avvenimento dedicato alla strada di Fellini nel sessantesimo della prima uscita del film attraverso l'esecuzione dal vivo della suite musicale di Nino Rota con l'orchestra del festival pianistico internazionale di Brescia e di Bergamo il racconto di Francesca Fellini metteremo a tema questo ci lasceremo nuovamente commuovere da questo e tra l'altro il finale del film per i meno giovani forse è noto il finale del film documenta esattamente che tutto ha un senso non solo che tutto ha un senso ma che il cuore ha veramente un potere imponente e imprevedibile dalle periferie di Nairobi arriverà un altro racconto messo in scena questa volta da ragazzi di strada diventati acrobati che racconteranno il loro bisogno di scoprire cosa c'è oltre le stelle cito questo questo spettacolo perché questo spettacolo sarà uno dei punti di forza di una novità che il meeting propone quest'anno un'arena internazionale che vedrà protagonisti artisti e musiche di tante diverse periferie del mondo in questa musica che viene da lontano oltre l'arena internazionale il meeting avrà un grande evento di musica classica con l'orchestra filarmonica armena che con la direzione del maestro eduard topchan proporà un repertorio della imponente musicalità armena e anche tanti brani della nostra tradizione occidentale quindi come vedete anche spettacoli legati legati a quello che il meeting di quest'anno vuole dire così come per le mostre generare bellezza nuovi inizi alle periferie del mondo è il titolo di una delle mostre storie di uomini anche in questo caso non storie di di astrazioni non storie di schemi non storie di progetti storie di uomini dal Brasile dall'Equador dal Kenya che documenteranno come in queste situazioni di degrado e di povertà se l'uomo cambia se l'uomo ha una ragione per cambiare se l'uomo ha una ragione se l'uomo ha una ragione per assumersi una responsabilità qualcosa può cambiare e altra altra sottolineatura che mi fa collegare all'intervento di Buccellati di prima il meeting ha una sua grande tradizione di archeologia anche quest'anno appunto avremo la mostra di Buccellati ma avremo anche una mostra dall'Etiopia la millenaria tradizione artistica dell'Etiopia questa non è archeologia questa è storia dell'arte oggetti liturgici icone libri manoscritti che documentano questa fede millenaria del popolo dell'Etiopia che cosa mette insieme queste due cose rappresenta l'aspetto interessante il passato non solo come passato il passato come qualcosa che può rilanciare nei confronti del presente il passato come una memoria in cui concretamente concretamente anche perché diventa oggetto di lavoro concretamente perché diventa oggetto di rapporti oggetto di storie vissute insieme il passato concretamente diventa una speranza per il futuro questo è mi pare se ho ben capito il senso del progetto che diceva professor Buccellati prima questo è anche in qualche modo contenuto nella mostra dell'Etiopia perché nella mostra dell'Etiopia ci sarà un ultimo step in cui verrà documentato il progetto dell'Università Cattolica di Edisabeba che addirittura il primo ministro Etiope nel 97 chiese Giovanni Paolo II di tirare su allora la mostra dell'Etiopia è come se guardasse verso questo progetto di educazione che è l'Università Cattolica di Edisabeba l'ultima sottolineatura che mi permetto di fare tante altre sarebbero le cose da citare la mostra stupenda realizzata con l'ambasciata di Armenia presso la Santa Sede Parabole d'Oriente la mostra su Peghi la mostra su Tolstoi tantissimi altri spettacoli ma quello che voglio quello su cui su cui voglio voglio concludere perché mi pare che sia centrale tutte anche tutte queste mostre anche tutti questi spettacoli su cosa si reggono non sul passato non sull'archeologia del passato non sulla conservazione del patrimonio culturale che per carità è una cosa nobile ma non basta si reggono sul fatto che ci sono oggi uomini che amano il proprio istante presente e che poiché amano il proprio istante presente sono capaci di vivere anche del proprio passato di valorizzare il proprio passato di valorizzare la propria tradizione culturale perché la storia degli spettacoli è tutta in questo senso per guardare con speranza al proprio futuro questo sarà il contenuto anche delle mostre degli spettacoli e di tutti gli eventi che ci saranno all'interno del meeting a cui vi aspettiamo